Ecco qui, ricominciamo. Vedo le persone che si stanno accomodando alla spicciolata. Vi racconto brevemente cosa faremo in questo secondo panel, in questa ultima parte di percorso insieme. Abbiamo avuto, come vi dicevo prima, siamo riusciti a raccogliere, abbiamo avuto questo orgoglio, questa ambizione di raccogliere tutti i protagonisti del mondo del riso intorno a questa pubblicazione, quindi nell'ora precedente vi abbiamo raccontato il libro. In quest'ora ci fa piacere confrontarci con i diversi target a cui questo libro è destinato, ascoltare i loro punti di vista e oltre alle persone e agli interventi in presenza avremo anche i video messaggi di tutte le associazioni più importanti di categoria a cui abbiamo chiesto di leggere il libro e di farci sapere che cosa ne pensavano. Iniziamo questa carrellata di punti di vista, di confronto anche più ampio sulle problematiche in generale del riso con il professor Aldo Ferrero dell'Università di Torino, che diciamo ci inquadrerà il libro nella prospettiva più ampia della ricerca sul riso. Prego professore. Grazie dottoressa. Io parto un po' da lontano, non ho seguito tutte le relazioni di questa mattina, ma vorrei appunto, come ha detto la moderatrice, inquadrare questo libro nell'ambito delle attuali principali problematiche che investono la risicoltura nel nostro paese. Il riso è una cultura introdotta già a partire dal XIII secolo nel nostro paese e assume oggi una posizione di grande rilievo nel panorama culturale italiano. Grande rilievo non soltanto legato al ruolo, importante ruolo nell'economia agricola italiana, ma anche per la sua importante valenza ecologica. Il riso infatti fornisce un alimento di qualità riconosciuta come eccellente e consente di utilizzare l'acqua in modo particolarmente virtuoso, soprattutto nei territori dove questa è disponibile in modo abbondante e che, se non utilizzata attraverso la risicoltura, rischierebbe di non essere adeguatamente impiegata. Gran parte della risicoltura del nostro paese può essere considerata un sistema di coltivazione intensivo sostenibile, almeno questa è la mia posizione, caratterizzata dall'adozione delle più moderne tecnologie messe a disposizione dell'agricoltura e finalizzata all'innalzamento dei livelli produttivi e qualitativi, ma nel rispetto della tutela ambientale e della sanità degli alimenti. Però la risicoltura si trova ad affrontare oggi numerose sfide. Sfide mi limiterò a considerare alcune, le più significative secondo il mio punto di vista. Per cominciare mi riferirei alle produzioni in paesi caratterizzati da bassi costi di produzione, quindi una forte competitività, se vogliamo. Poi qui ci saranno delle figure competenti che potranno meglio illustrare questi aspetti e come governarli. Ma un altro aspetto è legato anche alle richieste del mercato e della filiera del riso, che presenta delle esigenze sempre più elevate in termini di qualità delle produzioni fornite. Un aspetto che è stato, ho sentito, che è stato ben evidenziato e che è detrattato in maniera molto ampia nel volume presentato oggi è quello delle avversità fitopatologiche. Avversità che stanno manifestando una crescente recrudescenza in questi ultimi anni, legata anche, favorita anche, dalle particolari condizioni ambientali che si sono verificate in questi ultimi anni. Permettetemi anche, perché non posso tacere su questo aspetto, anche di ricordare quelle che sono le prospettive legate alla introduzione delle nuove politiche agricole comunitarie. Mi riferisco in particolare al Green Deal, con le sue strategie, il Farm to Fork e la Biodiversity. Ora, l'adozione di queste strategie comporta forti vincoli nell'utilizzo di fondamentali strumenti produttivi. Mi riferisco in particolare all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, dei fertilizzanti chimici. E' una situazione che costringerà l'agricoltore e il mondo della ricerca a trovare delle soluzioni, degli strumenti, soluzioni operative, strumenti, in grado di contenere le perdite produttive che verosimilmente, prevedibilmente, si determineranno a seguito di queste scelte politiche. Abbiamo, con alcuni altri colleghi, pubblicato un lavoro, proprio in questo senso, un lavoro che sarà presentato anche presso delle piattaforme che lo diffonderanno abbondantemente, proprio in cui si illustrano i risultati a cui si è arrivati nei rapporti, sul Farm to Fork, in particolare, e biodiversità, rapporti del JRC e anche del USDA, del Ministero dell'Agricoltura americano. Ma direi che questo non è il tema che dovremmo affrontare oggi. Volevo anche però considerarlo, in quanto questo è un importante problema che dovrà essere affrontato. Ora, quindi un impegno molto forte nell'affrontare questi problemi sarà sicuramente dedicato dal mondo della ricerca, la ricerca genetica e la ricerca agronomica. Però non vorrei anche dimenticare l'importante ruolo che avrà, in questo senso, l'informazione e la formazione. Questo aspetto è da tenere in grande considerazione. In relazione alla ricerca genetica, direi che a questa verrà chiesto di mettere a disposizione, come già stato detto in ottime presentazioni questa mattina, verrà chiesto di mettere a disposizione delle varietà di elevata qualità, almeno rispondenti alle esigenze del mercato, ma ovviamente anche di elevata sanità, ma in grado anche di rispondere alla necessità di adattare la cultura a situazioni ambientali sfavorevoli, climatiche e non. Soprattutto i problemi fitopatologici. Nella relazione precedente si è parlato molto di brusone e di altre malattie fungine. Quindi si chiede all'attività genetica di mettere a punto varietà in grado di tollerare naturalmente e quindi non essere costretta a ricorrere a prodotti fitosanitari, almeno per queste avversità. Ecco, credo che sarà fondamentale, in questo senso, saranno fondamentali le TEA, le tecniche di evoluzione assistita, che, come è noto, sono delle tecniche che si basano sui meccanismi di evoluzione genetica, biologica, naturali, senza dover ricorrere a l'introduzione di geni di altre culture. Alla ricerca agronomica si chiede invece di mettere a punto tecniche e strumenti purtroppo sempre meno numerosi, come abbiamo visto in precedenza, ma in grado di ottimizzare quegli strumenti che ancora abbiamo disponibili in modo da ottenere dei processi produttivi direi meno impattanti a livello ambientale, meno costosi dal punto di vista dell'economia e anche altrettanto efficienti, in combinazione chiaramente con gli strumenti genetici di cui ho parlato precedentemente. Con l'informazione e la formazione dovremmo cercare di trasferire al mondo operativo le conoscenze che la ricerca, vuoi genetica, vuoi agronomica, mette via via a disposizione dei risicoltori, degli agricoltori in generale. Bene, io credo che l'opera degli autori Tamborini, Titone, Mongiano e Legnani presentata questa mattina bene si inquadri nell'ambito di queste problematiche, che dia delle risposte, che dia delle risposte dal mio punto di vista guardando alcune parti del volume, ad esempio questa opera direi che bene evidenzia le possibili soluzioni in maniera ovviamente sintetica, non è questo il suo scopo, ma le possibili soluzioni attraverso le caratteristiche delle varietà che possono essere adottate. Ad esempio si fa riferimento nelle schede monografiche varietali, si fa riferimento ai dati agronomici, oltre che ai dati descrittivi, alle dose di semina in acqua interrata, alla tolleranza alle malattie, in particolare al brusone, che ricordo essere l'avversità più importante, quella che provoca attualmente in maggiori danni alla cultura, i livelli di concimazione per azionalizzarla, questo è molto importante, e anche gli areali di vocazione, questo è un aspetto importante. Finora non è che avessimo mai avuto tante informazioni, se non dopo anni di introduzione di una nuova varietà. I consigli per la raccolta, o meglio le problematiche che potrebbero essere presenti, e poi come il prodotto viene inquadrato nell'ambito del mercato. Io credo che le informazioni che sono contenute in quest'opera, che io chiamerei manuale, permettetemi, oltre a essere un atlante e anche un manuale, costituiscono un supporto veramente importante, a favore della, per affrontare i problemi, di cui io ho solo elencato, un numero piuttosto ridotto, che non solo il mondo della ricerca, ma soprattutto gli operatori agricoli, i risicoltori, devono quotidianamente affrontare, e quindi essere in grado di disporre di informazioni sulla scelta delle varietà da inserire nei loro piani culturali. Vi ringrazio. Grazie professore. Iniziamo a vedere allora i video messaggi da parte delle associazioni e iniziamo con Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, responsabile della Giunta Nazionale Coldiretti per il riso. Grazie. Non si sente l'audio? Deve essere un problema, non sentiamo l'audio. Un secondo di pazienza. E farlo diventare valori di mercato per i nostri risicoli. Possiamo riavviarlo da capo cortesemente. Grazie. Questa pubblicazione è certamente utile perché ci dà un panorama completo delle varietà sementiere disponibili per i nostri risicoltori. Evidente lo sforzo sulla ricerca, sulle nuove varietà, ma anche sull'importanza delle varietà tradizionali e sulla conservazione delle varietà storiche. Dobbiamo usare questo patrimonio e farlo diventare valori di mercato per i nostri risicoltori. Questo è quello che manca. La filiera del riso da questo punto di vista deve ancora fare un passo in avanti. Un po' come la mattina che stiamo vivendo. L'industria è seduta al tavolo dei relatori mentre l'agricoltura sta alla finestra con un minuto di video intervento. Ma sono certo che faremo passi in avanti da questo punto di vista magari arrivando finalmente a dei contratti di filiera anche sul settore del riso come accade sul grano duro, sul grano tenero e sugli altri cereali per far sì che la selezione delle varietà giuste si trasformi anche in un giusto prezzo riconosciuto ai nostri risicoltori per premiare il loro sforzo in termini di qualità e sostenibilità nel lavoro quotidiano. Grazie, grazie. Vorrei rassicurare agli amici di Coldiretti che veramente un risicoltore qui sul palco c'era ed è il dottor Paolo Carracca il presidente dell'Enternazionale Risi. Comunque noi siamo apertissimi purtroppo abbiamo avuto delle limitazioni anche Carlo Legnani abbiamo avuto delle limitazioni dovute al Covid ma ovviamente siamo apertissimi perché la ricerca è per chi la dovrà applicare sul campo quindi è fatta per tutti voi. Infatti adesso passiamo ad ascoltare di Confagricoltura Luca Blondelli presidente di Confagricoltura Alessandria e componente di Giunta. Prego. Importanza della ricerca oggi più che mai considerate le sfide importanti che attendono l'agricoltura del futuro e cioè sfamare una popolazione mondiale in continua crescita sfruttando sempre meno le risorse naturali disponibili eppur mantenendo un elevato standard qualitativo delle nostre produzioni. Impiegare nel modo corretto le moderne tecniche genetiche sarà quanto mai fondamentale per riuscire a vincere queste sfide per il futuro. Il volume che oggi è presentato inoltre sottolinea una particolarità italiana la grande ricchezza di biodiversità che hanno a disposizione gli agricoltori del nostro paese la quantità di varietà di cereali in questo caso di riso che sono frutti di anni di lavoro di sperimentazioni di ricerca delle università in collaborazione con le imprese agricole italiane. Questa collaborazione dovremo rafforzarla per il futuro e sarà un modo vincente per affrontare le sfide che ci attendono. Grazie Luca Brondelli ringrazio perché ci è anche venuto a trovare in sala grazie mille si parlava di informazione e formazione siamo al festival del giornalismo quindi il punto di vista della stampa direi che è un punto di vista importante e cominciamo con la stampa specializzata con Paolo Viana editore di Risotto risotto.us non so se funzioni buongiorno a tutti ringrazio innanzitutto il CRE e Corteva che hanno organizzato questo appuntamento entrambi ben presenti su riso italiano io sono l'editore sia di risotto.us che abbiamo presentato ci siamo presentati in questa veste in questo caso perché si parla di agroalimentare ed è il sito food che dirige italiano.eu che a questa platea forse è più noto oltre a ringraziarvi breve leggenda quelle che dirò sono delle opinioni e questa volta non farò notizie ma diciamo esprimerò il punto di vista di un comunicatore cercherò di affrontare il tema che mi hanno affidato spiegando qual è lo stato dell'arte della stampa agricola e della stampa alimentare che partiamo da qui sono due ambiti ormai completamente diversi la stampa agricola ha mantenuto pressoché inalterata nel tempo la propria impostazione nel comunicare col proprio lettore il proprio linguaggio ha conservato la mission che è quella di fornire delle informazioni tecniche a chi le utilizza direttamente cioè il lettore utilizza ciò che legge quindi tecniche e dati diverso il discorso per la stampa che si occupa di food di alimentare cambiata più profondamente con la digitalizzazione diversamente dalla prima non si è limitata a tradurre in giornale in digitale un'informazione ma si è sdoppiata da un lato abbiamo come sappiamo il mondo enorme variegato ai food blogger che informano sul gusto sulle novità sui luoghi e svolgono una funzione spesso promozionale oltre e più che informativa ma soprattutto hanno un vincolo tecnologico cioè diffondono le loro le informazioni che erogano al lettore attraverso le reti social che hanno una caratteristica su cui spesso non riflettiamo cioè non sono governabili cioè l'emittente rispetto al destinatario non è in grado di programmare e determinare l'effetto del proprio messaggio perché la distribuzione e qui ci sono in sala degli industriali che sanno quanto peso ha la distribuzione la governa qualcun altro cioè il signor Zuckerberg lo stesso discorso lo stesso contratto delle sponsorizzate si articola in termini di stima e non di stima del dato e non di dato certificato dall'altro lato abbiamo i portali i siti tutto ciò che si muove sotto questa forma che lentamente stanno abbandonando l'informazione tradizionale basata sul racconto di quel che succede nel mondo food che invece ha pannaggio stretto del food blogger per diventare dei distributori di informazioni on demand sostanzialmente mi collego per prendere una ricetta per prendere l'informazione su un luogo su un ristorante su un'esperienza se l'informazione giornalistica e qui parlo ai giornalisti in sala si basava e si basa sulla funzione dell'organizzare le notizie secondo la notiziabilità si chiama agenda setting in gergo qui cambia tutto perché siamo in un contesto in cui l'informazione o quel che resta dell'informazione è più organizzato come un menu apparentemente piatto il cambiamento è molto simile una volta andavo al ristorante e mi fornivano quello che era preparato in cucina adesso vado al buffet e prendo quello che voglio in entrambi i casi si possono orientare informazioni e lettori anche in modo promozionale ma cambiano i meccanismi noi quando dicono io dico io edito due siti completamente differenti per impostazione ma non lo faccio da solo nel senso che ho una decina di collaboratori poi tante persone che scrivono anche sotto mentite spoglie come si dice cioè spesso non appaiono per tali che sono collaboratori informatori esperti ecco riso italiano nasce come sito di informazione sulla risicoltura e resta così nel tempo mentre risotto.us nasce come sito di informazione sulla cucina del riso e poi vira cambia diventa un ricettario interattivo sostanzialmente diventa on demand ed è molto diverso anche l'uso che si fa dei social perché in un caso nel caso di riso italiano sono degli strumenti di amplificazione del messaggio mentre nel caso di risotto sono uno spazio a sé stante si cambiano ad essere uno spazio a sé stante non solo ma l'uso della pubblicità tutti noi che facciamo editoria online utilizziamo degli strumenti pubblicitari per far conoscere i nostri prodotti sta diventando sempre più articolato sostanzialmente diventa più profittevole non rivolgersi ai social che sono autoreferenziali e comunque organizzano il flusso della lettura al proprio interno ma direttamente a Google Ads questo è sostanzialmente la pubblicità su Google e questo è il cambiamento che investe soprattutto i portali e-food che quindi si trasformano come uno sostanzialmente un negozio dove puoi acquistare le cose e devi semplicemente sapere dove sono ovviamente i prodotti che vi ho descritto sono anche più complessi non c'è tempo per soffermarsi e non siamo soltanto cioè non possono essere ristretti alla nostra esperienza o a quella di altri soggetti più importanti la stampa specializzata è ancora tale nel settore agricolo però perché a mio avviso esiste ancora una domanda di informazione giornalistica specializzata mentre nel settore alimentare è cambiata proprio la domanda aggiungo che ci sono varie forme di stampa specializzata qui il discorso ha portato direttamente sul digitale ma io ho diretto a lungo per 15 anni il risicoltore che esce tuttora che è un prodotto cartaceo dell'ente nazionale risico abbiamo qui in prima fila il presidente quindi l'editore tecnicamente si definisce tale e come stanno in piedi sia la stampa specializzata cartacea che quella web stanno in piedi in base alle risorse che possono raccogliere sul mercato o che vengono conferite da un editore se si ravviso un'esigenza promozionale politica o quant'altro un giornale è un sito quindi non sono una magistratura sono un'impresa che erogano dei contenuti gratuitamente o a pagamento perché poi ci sono giornali come l'informatore agrario che sono a pagamento e possono farlo solo se qualcuno compra la pubblicità e questo qualcuno compra la pubblicità se esiste un congruo numero di lettori ecco perché l'ho segnalato apposta diventa importante avere dei certificatori della lettura ecco perché esiste tutto un ramo della stampa food in cui è difficile certificare la lettura e diciamo che il messaggio arrivi a destinazione come vi ho segnalato poc'anzi che diventa che crea un problema anche in termini di prospettiva evolutiva dello strumento di comunicazione fatta questa premessa di carattere tecnologico aggiungiamo che esiste anche un altro aspetto del problema i giornali come i siti hanno un editore come ho detto spesso sono organismi di categoria o istituzionali in qualche altro caso sono quelli che una volta si chiamano editori puri cioè traggono il proprio reddito dal fatto di editare ecco in questo caso nel caso di organismi di categoria istituzionale abbiamo una informazione si viene definita di parte non si può definire indipendente ecco io qui dico ho già fatto stranutire il presidente dell'enterisi ma lo tranquillizzo quest'oggi sono buono quindi no secondo me il fatto di essere di parte in questo caso non è assolutamente uno scandalo cioè faccio l'esempio del risicoltore se apro il risicoltore mi aspetto di leggere ciò che della risicoltura pensa l'ente nazionale risico mi aspetto di leggere altro è per questo che lo leggo è per questo che lo leggo nei risicoltori è questa la sua funzione ed è questo il patto ed è tale finché trasparente con il lettore lo posso dire perché l'ho fatto quello che dico l'ho fatto per diversi anni lo fa egregiamente chi è venuto dopo di me non c'è assolutamente nulla di scandaloso e il mito dell'indipendenza assoluta si può dire che non esiste intesa come qualcosa di asettico come vorrebbe diciamo la vulgata che spesso va su internet chi fa informazione indipendente segue ovviamente delle logiche anche diverse e sul termine indipendente come avrete capito ho delle idee un po' particolari queste idee si linkano a uno stato di fatto oggi il lettore pretenderebbe che l'indipendenza e questo lo dico perché spesso avviene anche tra gli agricoltori tra i risicoltori gli italiani il lunedì è della col diretta secondo quello che pubblica il martedì di confericoltura il mercoledì della CIA qualche volta raramente gli industriali perché essendo la controparte dei risicoltori sono di fatto tra virgolette il nemico nel momento in cui acquistano il risone il dottor Preve lo sa perfettamente quindi non dico nulla di segreto ecco quindi peraltro il lettore vorrebbe che sostanzialmente il giornale non gli fornisse informazione sul suo subconscio il lettore pensa che il giornale debba comportarlo nelle sue idee niente di più sbagliato secondo questo metodo di giudizio è indipendente chi la pensa come me ed è venduto al nemico chi la pensa diversamente ecco noi e molti giornalisti cerchiamo di fare qualcosa di diverso il riso italiano misura la propria indipendenza scavando su le notizie senza grande riguardo neanche quando viene invitato ai convegni sul riso italiano sono sparse spesso interviste a personaggi che non sono legati neanche a rapporti amicizie col sottoscritto perché? perché far parlare anche il mio nemico è il mio interesse di editore appartengono alla categoria dell'informazione specializzata indipendente tutti quegli strumenti giornali e siti che fanno dipendere la propria sopravvivenza economica dalla vendita al lettore e dalla pubblicità come ho citato prima l'informatore agrario che è una storica testata cartacea può accedere a entrambe le fonti finanziarie il riso italiano come quasi tutti i siti web non fa pagare nulla e si fa pagare dagli inserzionisti questo sistema comporta delle conseguenze sull'indipendenza e sulla qualità dell'informazione ora in Italia dice come vi dicevo la norma non scritta che se uno ti paga per il tuo lavoro ipsofatto ti compra anche l'anima questo è il pandan con il lettore cioè il lettore pensa che tu debba dargli come informazione ciò che lo conforta e non ciò che lo arricchisce nelle conoscenze il tuo l'imprenditore che viene a fare pubblicità da te in prima battuta pensa che nel momento in cui ha fatto pubblicità da te ha comprato tutto quanto la casa il contenuto immobili non è così non è così per fortuna è visto in inserzionista almeno quelli che vedete apparire sul nostro sito che hanno perfettamente corto questa differenza quel giornale cioè se io produco un giornale che arriva al lettore in un abbonamento gratuito e che si mantiene con la pubblicità è evidente che ho due effetti dipendo in tutto e per tutto dall'inserzionista e il lettore che mi leggo no è come se mi avesse letto cioè devo poter rendicontare la lettura questo è un problema che si interconnette con quello che vi stavo dicendo e cioè perché io riesco a spiegare all'inserzionista che è scorretto il rapporto diciamo olistico del contratto commerciale perché devo spiegargli che non deve cioè compra qualche cosa che non deve condizionare posso farlo perché internet me lo consente diversamente dalla stampa cartacea internet è assolutamente tracciabile questo è il punto di caduta del sistema ed è il motivo per cui la stampa cartacea io lavoro in un quotidiano cartaceo la stampa cartacea sta lentamente arretrando di fronte a questo tsunami che che è realmente uno tsunami finanziario editoriale anche se molti marketing manager investono ancora a prescindere dai numeri il web consente di tracciare tutto e quindi un sito è appealing sul piano pubblicitario e sei numeri che coprono il mercato non basta più dire ho diffuso tot copie il web può dire tot lettori hanno letto quell'articolo venivano da quella pagina e sono passati a leggere quell'altra seconda novità non sono solo tracciabili le scelte di lettura sono anche libere ecco che arriviamo al punto nessuno può imporre un lettore di riso italiano ma di qualsiasi altro sito di leggere una notizia falsa o edulcorata da interessi commerciali le società che investono in pubblicità hanno capito perfettamente stanno capendo sempre di più che è più conveniente pagare un giornale che viene letto realmente perché mantiene la propria indipendenza come un patrimonio che non svende la sua carta di identità che non condizionandolo mettendogli la museruola o mettendolo in un coro per farla breve la stampa specializzata su internet e questa è l'evoluzione che volevo descrivere ritrova la libertà di fare del buon giornalismo nella misura in cui tratta l'inserzionista con rispetto dovuto a chi paga un servizio e al quale eroga quel servizio e solo quello l'inserzionista peraltro sa che se pretendesse di condizionare quel giornale gli farebbe perdere lettori e segherebbe il ramo su cui lui l'inserzionista si è seduto ha deciso di liberamente di sedersi e il patto per l'informazione si legge sulla trasparenza del messaggio pubblicitario cioè che news si deve capire c'è la scritta IP cioè non c'è la scritta IP ciò che è propaganda si deve capire c'è la scritta IP il lettore è informato chiaramente e ritrova anche nel messaggio pubblicitario a volte un interesse informativo alcune news pubblicitarie vengono lette tanto e più di quelle informative questo perché ripeto esiste una domanda di informazione alla base e mi riferisco alla stampa specializzata agricola sul settore food stiamo ancora sperimentando molto grazie grazie Paolo Viana siamo di gran corsa allora andiamoci a vedere invece cosa pensano del libro cominciamo con la CIA con Giovanni Daghetta presidente CIA Lombardia e risicoltore in Pavia prego come risicoltore in occasione della presentazione di questo Atlante sulle varietà di riso voglio ringraziare caldamente gli autori e anche il Crea e Corteva che hanno permesso questa bella pubblicazione il riso è un cereale uno dei più importanti per l'alimentazione umana a livello mondiale è un prodotto molto sano e naturale e molto moderno voglio ricordare che il riso nasce praticamente dalla lavorazione del risone grezzo con una semplice asportazione da prima della lolla e poi delle farine più superficiali quindi è un alimento estremamente sano e moderno voglio anche ricordare in questa occasione i servizi ambientali che la risicoltura italiana sta dando a tutta la valle del Po perché obiettivamente in questo momento la sommersione delle risaie consente è un equilibrio idrogeologico durante tutta l'estate e in annate ormai così calde diventa fondamentale questo equilibrio voglio ricordare che nel 2021 la grande siccità che c'è stata ha costretto anche le regioni le province del sud del Piemonte Alessandria e Cuneo in particolare e tutta l'Emilia Romagna ad avere grandi problemi di idraulici ecco la risicoltura ha consentito anche in un'annata così difficile all'asta del fiume Po di mantenere una sufficiente quantità di acqua grazie grazie alla CIA e concludiamo il nostro viaggio nelle associazioni agricole perché poi ci sarà la puntata invece con le associazioni dei sementieri con Enrico Fravilli responsabile nazionale settore produttivi di Copagri prego la pubblicazione del Crea le varietà di riso coltivate in Europa le caratteristiche e criteri di scelta 2006-2021 che scaturisce da pareri di illustre figure che operano nella filiera è di grande interesse e utilità sia per Copagri che per tutti gli addetti ai lavori in ragione della grande vastità di notizie che sono presenti particolarmente apprezzabili sono i primi quattro capitoli che trattano la storia dell'evoluzione del riso il contenimento del brusone fino all'eliccazione delle varie avversità per le future edizioni crediamo che sarebbe molto utile anche poter inserire delle notizie che riguardano un passaggio sulla semina in asciutta e sull'impatto agronomico e merciologico che può scaturire sulla coltivazione del riso riteniamo infine particolarmente importanti particolarmente importanti il preciso e dettagliato ragguaglio sulla legislazione sementiera sulla normativa fidosanitaria e sulle privative comunitarie sulle novità vegetali propedeutiche per ulteriori approfondimenti ok allora siamo per il nostro ultimo cambio di relatori prima del gran finale ok e allora Massimiliano Borgia tu qui non sei in veste come dovresti padrone di casa e direttore del festival ma ho scoperto una tua identità che non sapevo perché tu sei un grande esperto di riso grande 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 intanto inizio a ringraziare due persone che sono in sala che è il professor Aldo Ferrero e Massimo Biloni perché sono le due persone che mi hanno alfabetizzato su questo cereale mi hanno fatto capire io una roba strana io a me piace la natura io da ragazzo faccio la guida naturalistica insomma prima di fare il giornalista a me le risaie sono sempre piaciute quando ho iniziato a fare quel lavoro di guida naturalistica e poi anche quello di guida turistica io portavo i gruppi da Torino nelle risaie che era la cosa più impensabile dell'universo eppure alla fine del giro piacevano perché c'è una quantità di cose da spiegare che è eccezionale cioè scendi aspetta quel fosso ha un suo perché e te lo spiego allora il tema è proprio questo è uno dei cereali secondo me forse il cereale ma sicuramente molto più del mais che può raccontare il perché di questo posto è fatto così perché ha questa cultura quindi è di enorme interesse nel mondo della comunicazione chiudo con una cosa è di enorme interesse anche spiegarlo ai giornalisti perché i giornalisti non lo conoscono io nel mio ufficio ho una specie di vaso dove siccome ogni tanto con Massimo Biloni gli chiedo scusa ma questa varietà cioè cose di cui al mondo di solito non interessa nulla e invece a noi qui sappiamo quanto sia importante allora mi ha regalato le pannocchie le ho messe e tutti entrano e dicono ah e quelle robe cosa sono nessuno sa come è fatto il riso punto ed è invece il cereale da conoscere di più perché non lo mangi tutto bello molinato molito in farina ma devi vedere i chicchi sapete meglio di me i chicchi sono fondamentali nella tipologia di costruzione dei piatti quindi io devo conoscere il chicco i chicchi nostri hanno una straordinaria storia anche di rapporto con l'ecologia dei luoghi sono varietà che sono state create qui non hanno quel puntino bianco che è proprio la loro forza perché c'è della milosio insomma il risotto è il piatto naturale perché sia valorizzato il riso italiano e quindi ci è davvero un'infinità di cose da dire facciamo a farli arrivare i colleghi giornalisti siamo a casa intanto bisogna portare infatti intanto bisogna portare il riso qui è quindi perfetto oggi credo che più riso di così non si poteva più insomma ci siamo ci sono tutti quelli del mondo risicolo italiano è inutile rimettare ringraziare tutti ma Crea Corteva Corteva sicuramente Crea e Enterisi e poi abbiamo anche sottosegretario Gianmarco Centinaio che è appassionatissimo di riso perché fa parte della sua terra ora come fare quindi portarlo qui sicuramente uscire dagli addetti lavori basta non esiste più bisogna raccontare ai giornali da tanti punti di vista io guardo è come il vino agli inizi nelle redazioni c'è quello che scrive di vino quindi va tutto conosce tutti va il vino se la canta se la suona il riso deve entrare nei temi della cronaca nei temi non deve aver paura di sfondare la pagina di agricoltura ed entrare su altre pagine posso dire un'ultimissima cosa che entri anche molto nelle pagine che parlano di esteri nel senso dell'Italia verso l'estero perché il cereale adesso voi fischiatemi ditemi quello che volete ma il cereale è un po' dimenticato volevo dire molto dimenticato ho detto poco dimenticato per stare un po' lì a metà la dieta mediterranea tutte le volte che cerco una foto da mettere c'è il rosso del pomodoro il verde del basilico fin lì ci siamo il giallo della pasta scusa il riso dov'è perché il riso orientale allora portiamoli tra Vercelli Mortara Novara portiamoli in tutti i posti ne ho dimenticati almeno tra 3 o 4 in Italia tra Ferrara pezzetti di Veneto c'è anche un angolino della provincia di Siena e uno in provincia di Oristano dove ci sono le risaie portiamoli a vedere ciascuno per la propria regione infilate di giornalisti non sapevo che ci fosse tutta questa cosa da vedere farà caldo fa lo stesso un prestura alla scoperta della dieta mediterranea fa caldo lo stesso punto sono più vicini a casa perché sono più vicini a Milano che la sede delle redazioni spacchiamo tra l'altro se volete che il festival sia partner anche di queste iniziative guardate sfondate porte aperte grazie davvero grazie a tutti grazie Massimiliano una bella sfida che penso che il mondo del riso saprà raccogliere e fare propria allora noi vi parlavo prima dell'associazione dei semi perché anche il viaggio del riso comincia con il seme quindi direi di dare la parola a Mauro Tonello presidente a Seme e poi a seguire il prossimo complimenti agli autori abbiamo fatto sicuramente un buon lavoro di raccolta di messa veramente in fila di tutta una serie di novità del mondo della regicoltura venera a mio avviso bisogno perché gli ultimi anni sono stati gli anni anche di maggiore attività dove le tecnologie di semina si sono differenziate le varietà e le tecnologie anche del seme sono cambiate quindi un lavoro sicuramente di eccellenza da questo punto di vista a cui va dato merito agli autori di aver fatto uno sforzo notevole per metterli in fila proprio aggiornati di tutto appunto quindi bene un gran pezzo di lavoro che andava fatto adesso bisogna che anche noi stessi come anche produttori di seme associazioni che rappresentano i produttori di seme facciamo uno sforzo anche in più bisogna avere il coraggio di guardare anche in faccia ai mercati che stanno cambiando quindi ad operarsi affinché le ultime tecnologie possano aiutarci ad andare incontro anche ai cambiamenti climatici alle novità che molto velocemente più velocemente di quanto non riusciamo a fare noi vanno avanti un occhio di rigardo va fatto e un richiamo va fatto da parte nostra quella che è la legislazione purtroppo molto debole italiana che non tutela sicuramente i produttori di seme soprattutto chi fa proprio genetica e chi lavora dietro a ricerca e sperimentazione ahimè l'utilizzo del seme oggi non più certificato sta facendo sì che ci siano sempre meno disponibilità e risorse per ricerca e sviluppo ma la mancanza di ricerca e sviluppo sarà un danno per tutta la nostra rigicoltura mi auguro che insomma un po' dappertutto si riesca a spingere affinché ci sia una ripresa in mano del lavoro fatto anche sulla legge sementiera che non tutela affatto ahimè gli sforzi di chi fa ricerca e sviluppo di materiale genetico comunque ancora complimenti per il buon lavoro e un buon lavoro a tutti quanti voi grazie grazie e concludiamo il nostro viaggio nelle associazioni di categoria con Giuseppe Carli presidente di Asso Sementi ricerca e innovazione per arrivare a questo volume che rappresenta un'eccellenza oggi a disposizione di tutti e ci permette di approfondire le nostre conoscenze grazie al lavoro di genetisti grazie alla loro grande passione il riso ha superato tantissime avversità negli ultimi anni e oggi si è affermato agronomicamente anche dal punto di vista organolettico e ha accompagnato la nostra evoluzione e la nostra cultura però c'è bisogno ancora di trovare soluzioni per le attuali problematiche dal punto di vista fitosanitario e noi dobbiamo essere pronti ad affrontare i cambiamenti climatici non pronti a subirli assolutamente conta ci spera che questo sia di incentivo affinché lavori così presati prendano vita anche per altre culture che tanto stanno caratterizzando il nostro territorio e che tanta storia potranno ancora raccontare e la saprà cogliere ma poi vi siete mai chiesti che mondo sarebbe senza risolta? Un'ottima domanda soprattutto vista l'ora allora però appunto andiamo cerchiamo di andare a chiudere tutto questo viaggio meraviglioso nel mondo del riso in realtà finisce sul mercato sugli scaffali del supermercato ed è lì che si decide tutto giusto Riccardo Preve come si è del mercato del riso caldo perché alla fine è il consumatore che comanda esatto ma io volevo fare volevo prima fare un accenno appunto al libro e alla quantità di varietà che abbiamo in Italia che effettivamente è un problema avere così tante varietà da lavorare e da vendere però io nell'industria forse sono tra i pochi o l'unico a pensarla così credo che comunque sia un aspetto positivo perché è un po' lo scotto che paghiamo per avere comunque un progresso tecnologico nel seme e alla fine le sementi nuove sono migliori delle sementi vecchie per produzione per resistenza e anche per qualità non tutte ma ci sono quelle che sono che lo sono quindi io credo che alla fine del progresso arrivano sempre più vantaggi che svantaggi ecco quindi il consumatore oggi il consumatore oggi quello che le tendenze del consumatore oggi sono diciamo nel mondo del riso innanzitutto c'è una tendenza che è un po' eterna che è il servizio e dico eterna perché parte un po' dalla preistoria prima il riso si comprava nei negozi e quando parliamo dell'era sembra l'era preistorica l'era pre come l'ha chiamata prebreeding andavano nei negozi con la paletta e si prendevano il riso sfuso poi è arrivato e il sacco era neutro poi è arrivata la marca poi è arrivata la confezione da un chilo noi in Italia siamo stati i primi a mettere il riso nella confezione da un chilo nel dopoguerra e poi è arrivato il servizio sempre di più quindi poi negli anni 70 il parboiled poi i risotti pronti sino ai piatti dal punto di vista servizio il riso pronto in due minuti nel microonde che è un settore che sta crescendo a doppia cifra in questo periodo molti sono scandalizzati soprattutto quelli del settore abituati a fare il risotto a vedere un riso nel microonde in due minuti ma in realtà non c'è un consumatore da risotto tradizionale contro un consumatore da riso in due minuti è lo stesso consumatore che in due momenti della giornata o della settimana a volte ha voglia di farsi un risotto con tutti i crismi e ogni tanto non ha tempo e mette il riso nel microonde che significa di fatto non più cuocere o cucinare il riso ma scaldarlo perché è già cotto e in molti casi non c'è e ve lo assicuro nessun compromesso qualitativo chiaro che se parliamo di risotto potrebbe esserci un po' di compromesso ma quando parliamo di risi di risi bolliti no assolutamente poi un'altra tendenza è l'influenza sempre maggiore sulla cucina italiana della cucina internazionale e che ha diciamo le cucine internazionali come con piatti che sono sempre e prodotti che sono sempre più diffusi uno fra tutti lo sappiamo benissimo al basmati che è sempre più consumato altro è il sushi che magari non è un consumo domestico ma è un consumo del ristorante e poi i risi colorati profumati noi abbiamo creato negli anni 90 il mercato del riso nero che poi si è sviluppato con il riso rosso e via dicendo e poi c'è stata un'altra tendenza negli ultimi diciamo oltre i due decenni che sono i mix di cereali che si sono affiancati al riso quindi il riso ma mischiato con altri cereali che anche in questo caso negli anni 90 siamo stati sempre noi a lanciare il primo tre cereali e poi se ne sono aggiunti tanti altri altra tendenza molto più recente dovuta e spinta dalla pandemia è il delivery perché ormai noi abbiamo tanta gente che che non va più al ristorante non poteva andare al ristorante perché c'era la pandemia ma anche quelli che vanno in ufficio non vanno più a fare la pausa pranzo al ristorante ma tantissimi si fanno portare le cose o se le portano in ufficio e questo è qualcosa come tanti altri progressi della pandemia che resterà secondo progressi della pandemia la pandemia è una cosa drammatica però dal punto di vista dei consumi ci ha portato avanti di dieci anni in alcune tipo di usanze anche solo le riunioni via zoom prima non si facevano praticamente quindi che varietà di riso in questo panorama sono quelle che hanno più scienze e tornando alla prima cosa che ho detto ci sono tante varietà sono 280 è impossibile venderle tutte ma già il 95% delle superfici come diceva il presidente Carrà è fatto da una quarantina trentina di varietà e questo già semplifica parecchio la cosa e poi però sta all'industria a selezionarle e un po' metterle assieme per omogeneità e quindi dire questo gruppo di varietà va a fare risotti questo va a fare altro o addirittura certe si possono chiamare sotto lo stesso nome come la legge consente perché di fatto hanno caratteristiche identiche a parte la pianta e poi le varietà le varietà l'evoluzione un po' si è vista anche nelle statistiche che ha fatto vedere sul libro Tamborini noi abbiamo le ultime gli ultimi anni sono state sviluppate le varietà diverse da quelle di cent'anni fa è normale e l'ultimo accenno direi dell'evoluzione è che secondo me il grande tema dei prossimi anni è la sostenibilità tutti parlano di sostenibilità la sostenibilità è una cosa enorme perché abbraccia un sacco di argomenti perché la sostenibilità è un qualcosa di a 360 gradi e cioè la sostenibilità ha un aspetto ambientale che è molto importante ma non è l'unico c'è un aspetto di sostenibilità economica di sostenibilità sociale e tutto questo va visto insieme perché un riso venduto a 15 euro al chilo sarà sostenibile solo per chi lo vende ma non per chi lo compra per esempio dal punto di vista economico e quindi la sostenibilità economica è importante perché è qualcosa di sostenibile è qualcosa che si sostiene nel tempo cioè uno deve guardare a lungo periodo e non tra due mesi o al raccolto questo a livello generale secondo la mia interpretazione dal punto di vista ambientale e aggiungo oltre a essere sostenibile dal punto di vista economico lo deve essere dal punto di vista sociale in Italia non ci sono i problemi dal punto di vista lavorativo che ci sono in altri paesi del terzo mondo sicuramente però dal punto di vista sociale o comunque una sostenibilità sta anche il fatto che bisogna dare da mangiare a tutti quanti e quindi in un paese in un pianeta di 8 miliardi di abitanti che quando ero bambino erano 5 miliardi e tra un po' saranno 10 miliardi uno non può pensare di sfamare tutti quanti con tecniche e con tecnologie che sono ormai vecchie di 50 anni e quindi in questo senso la sostenibilità va verso la modernità cioè la sostenibilità ti spinge ad avere varietà che producono tanto varietà che sono resistenti varietà che sono più facili da coltivare e varietà che sono anche di maggiore qualità questo vuol dire la sostenibilità dal punto di vista agricolo la sostenibilità agricola è importante beh prima ambientale e l'ambientale è di filiera e agricola di filiera è dal punto di vista anche del packaging per esempio noi abbiamo sviluppato una plastica 100% riciclabile per il riso sottovuoto che è una cosa per il momento unica perché il sottovuoto prevede determinate caratteristiche della plastica e quindi sviluppare una plastica che sia riciclabile cioè che può tornare a essere plastica perché poi tutta la plastica viene bruciata però che può tornare a essere plastica non è stato per niente facile è richiesto diversi anni di ricerca insieme a Goglio che è l'azienda che lo produce dal punto di vista poi agricolo la sostenibilità agricola richiede certificazioni di aziende agricole che vengano certificate secondo standard internazionali richiede un grandissimo lavoro da parte dell'industria di collaborazione con gli agricoltori e quindi di scambio di informazioni di tecniche e vedere di portare anche l'azienda agricola verso quello che il consumatore vuole e verso quello che questa tendenza alla sostenibilità ci sta portando che poi sarà o primo o dopo lo standard probabilmente noi come Resogallo abbiamo lanciato recentemente una carta del riso ci sono otto punti e non li passo tutti otto perché i tempi sono strettissimi ma mi fermo su un punto soltanto che è selezione delle varietà più adeguate e ritorno al libro e cioè ci sono delle varietà che che sono proprio grazie alla caratteristica di resistenza e di qualità e di quantità portano più verso la sostenibilità di altre finisco con un sassolino nello stagno e cioè dico ma se la sostenibilità alla fine è il futuro se la sostenibilità è il nuovo standard è più sostenibile e qui faccio una domanda ma è più sostenibile un'agricoltura appunto sostenibile e moderna e che produce tanto o è più sostenibile un'agricoltura che se fatta bene produrrà al massimo 20-30 quintali per ettaro domandone a quest'ora poi proprio lo lasciamo senza risposta eh no dovremo rispondere perché è il nostro futuro quindi prima o poi siamo chiamati a rispondere ma abbiamo capito che è un gioco di squadra e tocca lavorarci su tutti quanti imboccandoci le maniche ognuno deve fare la sua parte però a un certo punto ci deve essere un capitano che tira un attimo le fila fa una sintesi da una direzione e direi che le istituzioni dovrebbero essere in tal senso il capitano allora senatore Gianmarco Centinaio sottosegretario con delega i cereali si è è stato bravissimo dall'inizio alla fine si è assorbito tutto si è ascoltato tutto quindi adesso sintesi e direzioni grazie innanzitutto grazie dell'invito non mi metto qui a dare una risposta tecnica all'amico Riccardo perché se no andremo a casa dopo domani penso dovremo aprire anche un dibattito tra il mondo dell'industria e il mondo dell'agricoltura io esordisco con una cosa la prima domanda che è stata fatta c'era bisogno di un libro sì c'era bisogno di un libro perché è vero che un libro bello pesante guerra e pace penso che sia la metà del tomo che stiamo presentando oggi io penso sempre che è vero che c'è una differenza tra uno smartphone e un libro ma è altrettanto vero che è necessario avere anche qualcosa di fisico e penso che non sono solamente le nuove generazioni ad avere bisogno solo degli smartphone ma io invito sempre mio figlio che ha sei anni a leggere dei libri poi ci sarà tempo di guardare il tablet o di guardare il telefonino del papà e quindi penso di sì che sia necessario un libro è necessario che questo libro arrivi a chi? perché poi ho sentito anche una seconda domanda è necessario che il libro arrivi agli agricoltori sì è necessario che il libro arrivi agli agricoltori è necessario che arrivi alle aziende di trasformazione e alle associazioni sì ma io dico anche un'ultima parte è necessario che arrivi al legislatore questo libro perché vi assicuro pochi conoscono il mondo del riso e anche nel mondo del Parlamento nel mondo della politica che sia a livello comunale a livello regionale e a livello parlamentare e dico anche europarlamentare in pochi conoscono questo tema in pochi conoscono questa filiera e quindi se ci fosse adesso dottor Vaccari non c'è ma forse è necessario che questo libro venga non dico donato ma magari a prezzo calmierato venduto anche ai miei colleghi della politica penso che sia una cosa fondamentale abbiamo sentito tante cose che sono state dette oggi mi è piaciuto quando è stato detto che bisogna uscire dal settore bisogna essere soprattutto nella comunicazione bisogna evitare di fare l'errore che era stato fatto un po' col vino cioè un argomento solo tra esperti sono totalmente d'accordo anche perché il mercato sta andando in quella direzione fino a poco tempo fa io guardate io arrivo dalla provincia di Pavia c'è la diatriba tra noi e Vercelli che produce più riso mettiamola così il nostro paese è il paese che in Europa produce più riso quindi ce la mettiamo come medaglietta però penso una cosa che fino a poco tempo fa il riso era considerato il risotto un condimento il prodotto che quando andavi al supermercato cercavi il sottocosto di turno non stavi neanche molto spesso a guardare da dove arrivava non stavi a guardare chi lo produceva l'importante era che al supermercato costasse il meno possibile e questo lo dico per ragione di causa conosco tante massaie che mi hanno sempre detto questa cosa in questo periodo è diventato sempre di più un prodotto anche di qualità un prodotto dove vai a cercare la tipologia dove vai a cercare il riso giusto per il piatto giusto dove sempre più chef quando fanno i loro interventi anche oltre che sul mondo dei social network anche in televisione ti parlano di riso e quindi diventa sempre più un prodotto di eccellenza un po' come sta diventando ed è diventato un prodotto di eccellenza il vino e quindi se andiamo e facciamo questo ragionamento abbiamo un prodotto del prodotto della filiera del made in Italy che può essere esportato come non prodotto di quantità ma prodotto di qualità io ricordo sempre una cosa che quando si è cominciato a parlare dell'abbinamento riso cina che alcuni quando sono tornato dalla Cina si misero a ridere dicendo si centinaio è andato in Cina e ci dice che vuole esportare il riso italiano in Cina ma il ministro delle dogane cinese che è quello che decide se un prodotto può entrare o non può entrare in Cina la prima cosa che mi disse quando ci eravamo messi a parlare di altre cose di carne di maiale di altri prodotti dell'arancia rossa di Sicilia la prima cosa che mi disse fu guarda che io voglio importare in Cina il riso italiano sembrava una cosa strana ma quando ci siamo messi a quando mi ha cominciato a spiegare il perché la prima cosa che mi ha detto è il riso italiano è un prodotto di qualità che non c'è nell'altra parte del mondo se te lo dicono i cinesi io ci credo io ci credo e quindi siamo noi quelli che non abbiamo ancora capito le potenzialità del nostro prodotto siamo noi quelli che ancora andiamo in giro per il mondo timidi siamo noi che ancora oggi sul argomento riso pensiamo che il riso sia quello del sottocosto al supermercato oggi come oggi il riso è un'altra cosa oggi come oggi il riso dobbiamo andarlo a spiegare e spiegarlo a chi non lo conosce a chi non lo vive a chi non ha la fortuna che abbiamo noi mio nonno abitava a Mezzanabigli per chi è della zona sa benissimo dov'è e mio nonno mi raccontava e mi portava nelle risaie a pescare a tanare e mi spiegava anche qual era la cultura del riso ma ci sono tante persone che non lo conoscono e di conseguenza il lavoro che dobbiamo fare è andare nella direzione di far conoscere sempre più questo prodotto come prodotto di qualità per arrivare a questo prodotto di qualità non basta la storia non basta la tradizione lo studio le nuove tecnologie la ricerca scientifica tutto quello che serve all'agricoltura alle filiere agricole al mondo agricolo per essere al passo con i tempi per me questo è l'obiettivo avere un'agricoltura italiana sempre più al passo con i tempi non solo il mondo del riso e quindi dare quelle risposte che ti stanno chiedendo il mercato il mercato ti sta chiedendo dei prodotti sempre più di livello sempre più di qualità l'obiettivo che dobbiamo avere tutti è dare queste risposte lo fa il Crea lo fanno le aziende private lo fanno le università e quindi l'Interisi fa un grandissimo lavoro di promozione valorizzazione tutto quello che viene fatto e io ringrazio ringrazio Paolo per tutto quello che ho visto da quando sono in questo settore e sto vedendo sempre di più una crescita importante e quindi l'obiettivo che dobbiamo avere tutti è quello di dare delle risposte che è la risposta che ti chiede il consumatore che è la risposta che ti chiedono le industrie di trasformazione che è quella risposta che poi serve per vendere più riso venderlo in modo migliore e questa è la parte positiva sulla parte invece e l'ho detto qualche giorno fa all'incontro col Crea su invece c'è un'altra parte che è quella che io sto un po' tra virgolette contestando e lo dico anche pubblicamente a me va bene l'Europa che ci lancia tutte queste sfide riguardo l'ambiente sono io il primo che dico che bisogna fare la raccolta differenziata sono io il primo che dice che bisogna consumare di meno sono io il primo che dice che bisogna mangiare la frutta e la verdura di stagione anziché pensare di comprare la frutta e la verdura che arriva dall'altra parte del mondo che ha fatto decine di migliaia di chilometri per arrivare sullo scaffale dell'ipermercato e in che condizioni arriva punto di domanda che se noi vogliamo chiedere agli agricoltori europei di rispettare determinati standard dobbiamo dargli una mano e dargli una mano non possiamo dargliela semplicemente dicendo devi rispettare determinate condizioni il farm to fork o tutto quello che viene lanciato da questa Europa il fatto che agli agricoltori italiani e europei si chieda di rispettare determinate condizioni ambientali e quindi avere più spese perché questo è non può essere messo nello stesso livello sul fatto che contemporaneamente tu gli riduci la PAC perché tu non puoi chiedere a un agricoltore di spendere di più per rispettare degli standard che vuoi tu e poi diminuirgli i fondi comunitari questo per me io lo ritengo una cosa impensabile e inaudita e continuo a dirlo e continuo a criticarlo e continuo a criticarlo a un'Europa che quando il presidente von der Leyen era andato al Parlamento europeo a fare il suo discorso inaugurale non ha detto la parola agricoltura neanche una volta milioni di volte la parola ambiente bene ma la parola agricoltura neanche una volta e quindi penso che questa sia una cosa gravissima gravissima e termino perché poi si è aperto il dibattito dopo l'incontro dopo l'incontro che abbiamo avuto al Crea si è aperto il dibattito il mondo del riso che inquina il mondo del riso non inquina né più né meno di tutto il resto del mondo agricolo e di tutto il resto del mondo dobbiamo essere tutti nelle condizioni di inquinare meno sì e l'ho detto anche prima giusto dobbiamo essere nelle condizioni di inquinare meno però non possiamo pensare che l'agricoltura sia il più il settore più inquinante del nostro pianeta chi pensa che l'agricoltura sia quella che inquina di più ricordo a tutti che la tangenziale di Torino all'ora di punta la tangenziale di Milano all'ora di punta o io che ho fatto più di mezz'ora girando per Torino per cercare un parcheggio inquino molto di più di quanto inquina un mezzo agricolo o inquina un'azienda agricola nel bel mezzo della pianura padana e quindi dire che l'agricoltura inquina ed inquina più del resto dobbiamo prima farci tutti noi un esame di coscienza compreso il mondo agricolo che deve sicuramente inquinare meno e lo ricorderò sempre ma dobbiamo farci tutti noi un esame di coscienza su quanto stiamo noi facendo per migliorare e salvare questo pianeta punto di domanda e non puntare sempre il dito verso gli altri e sicuramente non dobbiamo puntare il dito verso il mondo agricolo io ricordo anche una cosa sono nato con un mondo del riso che produceva il riso in risaia ma nell'acqua voglio evitare di arrivare a un futuro dove ci sia un mondo del riso invece che produce il riso in un modo diverso così almeno do una risposta a chi aveva lanciato un messaggio qualche giorno fa dicendo che avevo applaudito cose che non era vero e quindi l'obiettivo che penso che dobbiamo lavorare tutti è risparmiare anche sull'acqua questo è vero questo lo dobbiamo fare ma visto e considerato che il PNRR ci mette un miliardo e duecento milioni di euro per le filiere e spero che la filiera del riso lo utilizzi e utilizzi quel miliardo e duecento milioni e ci mette tante centinaia di milioni di euro per le infrastrutture tra cui le infrastrutture irrigue e quindi l'obiettivo che dobbiamo fare è lavorare affinché ci siano sempre più infrastrutture irrigue all'avanguardia di eccellenza in modo che l'acqua venga trattenuta e tutelata nel momento in cui ce n'è tanta e rilasciata nel momento in cui c'è bisogno durante il periodo estivo in modo che si possa andare avanti a produrre il riso nel modo tradizionale perché ricordiamo una cosa la risaia che alcuni dicono che inquina è anche un mondo di biodiversità ci sono uccelli migratori che si fermano qui nei nostri nei nostri campi proprio perché ci sono le risaie se non ci fossero più le risaie non so che fine farebbero anche quel mondo che il mondo degli ambientalisti dice di tutelare ma lo dice quando è seduto in un salotto a Torino o a Milano e non lo fa quando va in risaia o quando va in mezzo al mondo agricolo grazie 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 per aver partecipato essere stato con noi indubbiamente è un gioco è una partita molto complessa molto ambiziosa che prevede appunto un gioco di squadra quindi ognuno è chiamato a fare la propria parte come lo scopriremo solo vivendo perché mi sembra che sia tutto molto complesso fatemi fare dei ringraziamenti di prammatica perché siamo arrivati alla fine il primo e più grande ringraziamento è a Corteva senza il quale né questa pubblicazione ci sarebbe potuto essere né questa occasione di oggi quindi grazie è sempre una cosa bella quando si può investire in cultura e in conoscenza un grazie a tutti i relatori che si sono avvicendati sul palco e a tutti i rappresentanti delle associazioni che si sono messi a disposizione in videomessaggio per esserci per dare comunque il loro parere speriamo di fare tanti altri eventi in cui dare spazio e voce a tutti quanti un grazie particolare a tutti voi e al pubblico che ci ha seguito da casa e arrivederci alla prossima occasione grazie a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti